Yeah Blaze ragazzi ben ritrovati da CB2010 Come stiamo come stiamo Una serie A veramente interessante Juventus campione d'inverno C'è stato il controsorpasso Tante notizie Partiamo subito con i risultati E la classifica Sabato tre partite Purtroppo perde il mio Castellu Contro il Milan Andate a guardare la mia reaction Il mio post partita Perde 0 a 2 Alle ore 18 Lazio Napoli Altra ottima partita Vince la Lazio sul finale di partita Con il solito immobile Un bel gollonzo E poi nel serale Inter Atalanta 1 a 1 Ottimo primo tempo dell'Inter Che passa subito in vantaggio Grazie al solito Lautaro Martínez Al minuto 4 Gran bel gol Qualche indecisione Iniziale dell'Atalanta Che però poi cresce E nella ripresa Trova l'uno pari Grazie a Gossens C'è anche qualche episodio Var Non controllato 1 a 1 Che sta stretto Alla Dea Domenica poi ricca di partite Vittorie importanti Per l'Udinese Vince 3 a 0 In casa Contro il Sassuolo Alle ore 12 e 30 Tre gol Tre bellissimi gol Uno più bello dell'altro Vince anche la Samp 5 a 1 In casa Col Brescia Un ritrovato qua Iarella Che fa anche Una bella doppietta Vittoria Importante Anche quella del Toro Contro il Bologna 1 a 0 Gol Di Berengher E poi Vittoria fondamentale Della Fiorentina Anche qui Casalinga Sempre 1 a 0 Però trovato sul finale di partita Ci pensa Pezzella A portare a casa E tre punti Spal che nonostante la grande mole di lavoro Non porta a casa nemmeno un punto Sempre ultima in classifica Vittoria anche Del Verona in casa 2 a 1 In rimonta Contro un ottimo Genoa Che parte bene Ma poi va a spegnersi Genoa in vantaggio Nel primo tempo Grazie a Sanabria E poi Nella ripresa Gran bel secondo tempo Del Verona Che ribalta Gol di Verre Su calcio di rigore Al minuto 55 E 2 a 1 Finale di Zaccagni 10 minuti più tardi Al minuto 65 Purtroppo Nuova sconfitta Per il Grifone Domenica di Serie A Che si concludeva alle ore 20.45 Con Roma Juventus Big match Finisce 1 a 2 Bianconeri Vantaggio dopo soli 3 minuti Grazie a Demiral Gran bel cross Quello di Dybala Su calcio di punizione Vantaggio Juve Poi Al decimo minuto Addirittura 0 a 2 Calcio di rigore Netto Ai danni Sempre di Dybala Va sul dischetto Ronaldo Gol 0 a 2 In soli 10 minuti La Juventus Praticamente Chiude la partita Gran primo tempo Della Juve Secondo tempo Però in favore Dei giallorossi Infatti Arriva Il gol Dell'1 a 2 Firmato Perotti Al minuto 68 Anche qui Calcio di rigore Netto Provocato da Alexandro Fallo di Mano Partita Poco entusiasmante Una buona Juventus Per i primi 20 minuti 25 Ma poi Gara piuttosto Noiosa Lenta La stessa Roma Non ha fatto una partita Brillante Si è svegliata un po' Nella ripresa Quando ha segnato Perotti L'1 a 2 Ma poi Una partita Con poche occasioni Da gol Una partita Condizionata Anche da due Infortuni Nota dolente Di questa gara Si fa male De Miral Per la Juventus E si fa male Anche Zaniolo Per la Roma Una brutta notizia Anche per la Nazionale Stagione Finita Per entrambi Giocatori Veramente Molto Sfortunati Vittoria Vittoria per la Juventus Importante In termini di classifica Juventus Che si trova Adesso Al comando Juventus Campione D'inverno Passiamo All'ultima partita Quella del lunedì Parma Lecce Vittoria Importantissima Del Parma 2 a 0 Meritato Anche se Nel primo tempo Ha faticato Non poco La squadra di casa Parma che cresce Nella ripresa Come spesso gli accade Trova il gol Con Jacoponi Al minuto 57 Un colpo di testa Veramente Molto bello Calcio d'angolo Di Arnani Arriva Jacoponi Testata Potentissima 1 a 0 Parma Poi passano Pochi minuti C'è il cambio Cornelius Che entra Al posto Di inglese L'attaccante Regala Al minuto 72 Il raddoppio Il gol Del definitivo 2 a 0 Lecce Molto sfortunato Che era partito Bene Parma Che vince Sale in classifica Chiude Il girone Di andata Al settimo Posto Con ben 28 punti Lecce Che rimane Diciassettesimo A soli 15 punti Passiamo così Alle notizie Flash Di calciomercato Giorni Movimentati Milan Molto attivo Sul mercato Si sta Facendo Un discorso Con l'Inter Per un possibile Scambio Politano Al Milan Perché sì All'Inter Politano Classe 93 26enne Lo scambio È possibile È possibile Però Politano Piace tanto Anche alla Roma E anche Ad altre società Se ne sta parlando Milan Che cede In prestito Caldara All'Atalanta Per 18 mesi A titolo Gratuito Caldara Classe 94 Un ex Atalanta Che potrebbe Riscattare il giocatore A ben 15 milioni Di euro Chiaer Arriva invece In rosso nero Sempre dall'Atalanta In prestito Per sei mesi Classe 89 Ex Palermo Ha già giocato In Italia Si sta poi discutendo Di Piontek Della situazione Dall'attaccante Polacco Richiesto In Inghilterra Piace al Tottenham All'Aston Villa Il Milan Però chiede 30-35 milioni Di euro Milan Che prende È ufficiale Anche il portiere Begovic Arriva infatti Il classe 87 32enne Dal Bornemouth Va invece In Inghilterra Precisamente All'Aston Villa Pep Reina Sempre in prestito Per sei mesi Per la Fiorentina È ufficiale Cutrone Che torna in Italia Prestito Con obbligo di riscatto 22 anni Classe 98 Arriva in Italia Alla Viola Per 18 milioni Di euro Dal Wolverhampton Visite mediche fate Giocatore Già disponibile È ufficiale Pedro invece Il giovane attaccante Brasiliano Torna in Brasile Lo vuole il Flamengo Si sta ultimando Il trasferimento Per circa 15 milioni Arriviamo così Alla Juventus Juventus Molto attiva Ha concluso Un'operazione Arrivato Per quanto riguarda Il settore giovanile In Tenda Terzino Da grande fisico Un giocatore esplosivo Arriva dal Nant Contratto Di formazione Quindi la Juventus Ha pagato soltanto 400 mila euro Un giovane Di prospettiva Piacciono poi Tantissimi giovani Si sta facendo Più che altro Un mercato Per il futuro Dembele Del Lione 23enne Classe 96 Piace Usaim Owar Non so se si pronuncia Così Centrocampista Piace Auxixi Questo centrocampista Dal nome impronunciabile Del PSG Piace tantissimo Alla Juventus Questo giovane Centrocampista Chong Del Manchester United Anche lui Ventenne Si sta cercando Di fare La stessa operazione Che portò Pogba All'epoca Alla Juventus Manchester Che vuole blindare Il giocatore Però Si dice Che Chong Abbia già parlato Con qualche dirigente Bianconero La situazione È caldissima Questo È veramente Un giocatore Che potrebbe In futuro Far parlare Di sé Due colpi Anche per il Napoli Nelle ultime ore Ha ufficializzato Lo vodka Ne ho parlato Negli ultimi Video Anche Diego Dembe Questo centrocampista Tedesco Classe 91 Giocatore Che arriva Dall'Ipsia Preso Per 12 milioni Di euro Un contratto Per lui Di 5 anni A 2 milioni Di euro Annuali Due colpi Per il centrocampo Azzurro Concludo Il video Qui Come sempre Se vi fa Piacere Lasciatemi Un like Se vi piacciono I miei contenuti Siete nuovi Alla visione Di questo video Se volete Qui in basso Iscrivetevi CB2010 Attivate la campanellina Per non perdere I prossimi video Le prossime mie live È inutile dirlo Qui in basso È sempre gradito Un vostro commento La vostra opinione È importante Lo ribadisco Sempre Se vi fa piacere Condividete I miei contenuti Nelle vostre pagine Social Come sempre Mi trovate Su Twitter Instagram E Telegram Ci si vede Al prossimo video Bless